Bene, cari amici, benvenuti, bentornati per questa seconda sessione di lavori di questa splendida giornata che si preannuncia entusiasmante. È difficile immaginare un convegno che abbia anche quantità notevoli di partecipanti, convegni specialistici, ed è chiaro che poi quando succedono fatti come quelli di oggi siamo molto contenti e ci onoriamo di poter dire di aver organizzato un evento non indifferente. Il ringraziamento va ovviamente al nostro sindaco di Caltanissetta, Michele Campisi, che devo dire quasi a tempo di record è riuscito a portare avanti, Vittorio, questa manifestazione. Meno di un mese fa non si sapeva nulla se non la tua data che io personalmente ti avevo comunicato e poi per il resto in un mese è stato organizzato questo. Un convegno di questa portata assume anche una valenza culturale forte, con questo non si vuole avere la pretesa di realizzare processi innovativi, no, assolutamente, questo non rientra nello stile degli organizzatori, però sicuramente quello di leggere Sciascia in una maniera diversa questo sì, forse perché siamo stanchi di immaginare o di vedere Sciascia dipinto o descritto in una certa maniera. I lavori così come sono stati dipanati stamattina hanno realizzato secondo me un processo assolutamente virtuoso. Io ho potuto constatare, toccando con mano la soddisfazione dei partecipanti, molti di voi presenti, a dimostrazione concreta che forse si può fare buona cultura, cioè di quelle cose che poi alla fine rimangono per definizione cultura, cioè attaccati anche alle proprie radici, alla propria storia, senza per questo essere barbosi o noiosi. Abbiamo visto una presenza notevole di ragazzi e stamattina commentavamo chissà se oggi pomeriggio verranno, ragazzi avete vinto la sfida, siete stati bravissimi perché la mattina c'è sempre la giustificazione, la possibilità di poter dire che magari si viene perché si può biggiare la scuola, quando invece si viene per scelta è indubbio che questo fa onore non solo a voi ma anche al vostro corpo docente. E il fatto stesso che Caltanissetta oggi si sia ricordato tra i pochi in Italia di quello che è successo vent'anni fa, cioè della morte dell'ultimo vero intellettuale che questo paese abbia voluto celebrare e che lo abbia voluto celebrare in una maniera assolutamente innovativa è la prova concreta che c'è forse una volontà non soltanto di realizzare processi di memoria, sarebbe banale soltanto questo, ma soprattutto quello di portare avanti un messaggio, un messaggio forte, un messaggio intenso che stamattina mi permetto di dire i nostri relatori, Dario Caroniti, Domenica in Roma e Ferdinando Raffaele hanno avuto la possibilità di lanciare. Noi continueremo su questa scia, non ci distaccheremo, i personaggi di oggi sono altrettanto straordinari, anzi ce n'è uno che è molto più che straordinario, nel senso che io ritengo assieme al Presidente Berlusconi e a Zichichi una delle persone, lo dico sempre, che in assoluto conoscono tutti e quindi averlo qui è sicuramente anche un agio e un piacere, ma è anche un agio e un piacere avere Stefano Rapisarda, docente universitario e aspettiamo Enzo Vitale, anche lui è docente all'Università di Milano. Ma entriamo nel vivo, avete appena sentito un brano di Ornella Chipero, una nostra ragazza, visto come recitano bene i nostri ragazzi Vittorio, che ha letto un brano a futura memoria, era lei no? Ho sbagliato, c'è il commento non era lei? Era lei, era la Chipero, giusto. E quindi dimostrazione anche che i ragazzi che sono talentuosi, che possono anche raccontare belle storie, che possono essere impegnati concretamente su cose che non sono soltanto la quotidianità di tutti i giorni. Ebbene, entriamo nel vivo del ragionamento, però prima di passare la parola ai nostri graditi ospiti, io penso che sia o doverò so fare un saluto. Stamattina Michele Campisi ha fatto un dotto intervento, lo ringraziamo, poi lo metteremo negli azzi del convegno che ovviamente tu ti impegnerai a fare. Lo dico perché ne abbiamo già parlato e quindi il sindaco ovviamente non può perdersi questa chicca di lasciare una traccia storica nei confronti di chi verrà dopo. Altrimenti sono chiacchiere. E io penso invece che le cose quando rimangono scritte, lo si dice da sempre, dalla notte dei tempi, ovviamente hanno una valenza diversa. Il segnale sarà anche questo, di lasciare elementi di valutazione per chi verrà dopo. Perché forse abbiamo sì, questo senz'altro, la presunzione di dire che il mondo può cambiare soltanto se evidentemente si ci mette di buzzo buono. E Shasha era uno di questi, Shasha era uno di quelli che diceva che bisognava cambiare. Ogni tanto nei momenti di sfiducia parlava anche di irredimibilità della Sicilia, una Sicilia irredimibile, ma non è così perché poi i suoi scritti erano sempre carnoturati da una speranza, da un andare avanti, sempre e comunque.